L'ipotesi alla quale sta lavorando la Polizia Scientifica di Salerno è che si tratti di una stessa banda che, nel corso della notte appena trascorsa, si è introdotta in tre diversi istituti scolastici situati a poca distanza gli uni dagli altri, portando via, in due casi, scuole dell'infanzia prodotti di poco valore, mentre un furto più ingente è stato perpetrato ai danni del liceo scientifico Francesco Severi, situato nella zona Piccarielli, nella parte orientale della città di Salerno. 20 computer obsoleti, dice oggi la preside Barbara Figliolia, che, alla conta dei danni, esprime rabbia soprattutto per il danno sociale più che economico che è stato perpetrato attraverso il furto nella sua scuola. Sono davvero rammaricate, al più per questo, di questo atto comunque scelerato, subire un furto in un momento così particolare. E un furto, tra l'altro, da premettere, sono 20 computer e sono anche computer vecchi, fortunatamente, che il valore economico, parliamo in termini, è di 50 euro, ma lasciare un alimentatore vuol dire che non possono neanche venderli, quindi si vede che non sono forse persone, dei professionisti, non sono neanche persone comunque che conoscono poi di questi computer, quindi loro non se ne fanno nulla. E tra l'altro comunque hanno messo in difficoltà una scuola dove in questo momento stiamo dando i computer incomodato d'uso ai genitori che ne hanno necessità. In un momento in cui io credo che tutto il paese dovrebbe stringersi, soprattutto la città di Salerno, attorno a queste esigenze e tutti dovremo fare la nostra parte, perché noi stiamo comunque aiutando tutte le famiglie, anche le famiglie che sono in difficoltà riceveranno un computer. Non ne vedo la ragione di questo furto, sinceramente. Sembra più una bravata, anche perché sono stati portati pezzi di computer che non servono a nulla senza le altre parti che sono state lasciate qui. No, perché lasciare qui un alimentatore che comunque il suo costo è di 30, 40, anche 50 euro, a fronte di un computer comunque ormai vecchio, obsoleto, ha tolto, ripeto, soltanto un'utilità per noi come scuola, soprattutto in un momento particolare, perché la DAD comunque ha subito un danno, più la DAD perché ci sono genitori che hanno fatto richiesta di avere questi computer. Non so ora quanto riuscirò ad accontentare queste richieste di questi genitori, anche perché dobbiamo comprendere che dal momento che sono chiuse tutte le scuole, anche primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, le richieste sono maggiori. Dal momento che in una famiglia molto spesso ci sono anche più persone, anche gli stessi docenti hanno difficoltà se hanno i figli a casa, quanti computer dovrebbero esserci qui a casa. Quindi tendevamo anche ad aiutare coloro che non è che versavano in condizioni proprio di difficoltà economica, chiunque insomma volevamo cercare di offrire. Per quanto possiamo cercheremo comunque di garantire un computer a chi ne fa richiesta, però a questo punto il mio appello è chiedete veramente quando ne avete bisogno, perché ora sono pochi.